Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono due chilometri di coda per incidente in direzione Bologna tra Barberino del Mugello e Aglio. Sulla Fipilì, un chilometro di coda per incidente tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. Rallentamenti tra Scandicci e l'allacciamento A1 Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Prestare attenzione per personale su strada per lavori tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. E tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze chiusa una corsia per lavori tra Badesse e Siena in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!